Ma secondo Angeletti evidentemente non c'è questo rischio, allora vuol dire che lei non è d'accordo con Angeletti. Io naturalmente spero che ci sia una risposta forte dal lato delle imprese. Vorrei ricordare che siamo ormai al primo di ottobre e i fondi sono stati stanziati per il 2013, il 2014, il 2015 e quindi non è che se qualche impresa non riesce ad accedere immediatamente a questi fondi perde in qualche modo la voglia di assumere. In questo senso sono convinto che poiché gran parte di questa misura è finanziata da fondi strutturali può esserci una situazione come quella che lei ha descritto al nord, sappiamo però anche che molte regioni del nord hanno ancora difficoltà a impegnare fondi entro il 31 dicembre 2013 della programmazione precedente. La norma è stata scritta in maniera tale che qualsiasi regione, anche il 31 dicembre 2013, possa aggiungere sue risorse sull'incentivo occupazione. Per cui penso che il senso di responsabilità delle regioni farà sì che nessun euro vada perduto e questo nel caso in cui l'incentivo fosse molto richiesto dalle imprese è un ottimo modo per impegnare i fondi. Grazie.